mister domani per blindare il passaggio alle fasi nazionali dei playoff di comune novidiana che verrà qui non ha nulla di chiare il campionato ma ci tratta a fare bella figura sì sì ma noi dobbiamo continuare appunto come hai detto tu a prepararci e arrivare alla cosiddetta matematica per arrivare ai playoff nazionali domani possiamo arrivare a questa quota quindi sicuramente faremo di tutto per fare bene per prendere questo vantaggio dalla terza tre squalificati massetti donatangelo piccioni c'è da aspettarsi qualche cambiamento tattico nella formazione cambiamento tattico no ovviamente per esigenze della formazione però anzi in questo momento è normale che si arrivano con tanti diffidati e siamo alla fine del campionato però abbiamo una rosa ampia una rosa forte per cui non ho problemi e preoccupazioni per questo